Noi ci siamo adeguati agli incontri avuti con l'ente gestore dei trasporti. Ovviamente il mio istituto è un istituto particolare ed è servito su varie province. Dalla Romagna transitano in questa scuola parecchi studenti, quindi hanno possibilità di usare sia i bus, il trasporto studenti, ma anche i treni. Ragazzi che vengono da Senigallia, ragazzi che vengono vicino a Trecastelli. Quindi abbiamo un'offerta sul territorio molto ma molto ampia e consistente. Mi sono comunque adeguata a quelle che sono le scelte che l'Adria Bus, stiamo aspettando adesso gli ultimi esiti per il trasporto. Io comunque ho fatto un'organizzazione settimanale dove ho rispettato le linee guida date dall'Adria Bus al 50%. Quindi corsi che staranno a casa con la didattica a distanza e corsi in presenza. Però la scuola è comunque sempre aperta, il docente starà in classe e gli studenti che sono nelle condizioni di raggiungere autonomamente la scuola, anche se è la settimana dove la classe dovrebbe seguire la didattica a distanza, possono venire a scuola. Quindi io auspico di arrivare, se non al 100% delle frequenze, ma almeno a un 80%, proprio dando questa possibilità. Inoltre i ragazzi certificati, la scuola funziona regolarmente in presenza e abbiamo articolato la settimana didattica su cinque giorni, compresi due rientri pomeridiani, proprio per l'attività di alternanza scuola-lavoro che i miei studenti faranno al momento qui in azienda. Noi abbiamo circa 1.100 studenti, studente più o studente meno. Abbiamo sei corsi completi, dalla A alla F, prima e quinta al tecnico, con le tre articolazioni complete, quindi al terzo anno, l'articolazione viticoltura e enologia, gestione ambiente e territorio e abbiamo produzione e trasformazione. Per il professionale abbiamo 20 classi, quattro corsi completi, più un'altra classe, quindi tre corsi più un'altra classe. Abbiamo tutte e tre le articolazioni, che oggi si chiamano Curvature, essendo cambiata la normativa dei professionali. Ci troviamo a avere servizi sull'agricoltura e lo sviluppo rurale, la silvicoltura e la forestazione, un'articolazione a cui io tenevo tantissimo, in quanto tutta l'attività boschiva, essendo come scuola inserita nel parco San Bartolo, abbiamo la bellezza di 7 ettari di boschivo. Inoltre, la cultura del bosco, la silvicoltura, vista la situazione di oggi, gli smottamenti, eccetera, la deforestazione, era importante, essendo questo in istituto agrario, non tralasciare l'aspetto sia ambientalistico, la cura del bosco, ma anche legato alla produttività, a quelle che sono le aziende e l'industria boschiva. Grazie. Grazie.